mercoledì 26 succede tutto il contrario di tutto bitcoin un super pump che lo porta di nuovo intorno a zona 30.000 poi un super crash nell'arco di pochissimi secondi iper manipolato quindi una forzatura per far ritornare il prezzo in una zona di liquidità dove era stato precedentemente il 25 di aprile ritorna lì e poi si riporta dove doveva stare cioè sui livelli di prezzo standard intorno a 29.000 dollari bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video nella rassegna diciamo e nella telecronaca di quello che è stata una giornata di iper volatilità ragazzi ma anche iper proficua per chi è un trader e si vuole divertire veramente è stata un evento che insomma ragazzi fa gola a chi poi fa trading insomma no up and down soprattutto intraday per queste cose veramente divertentissima ma soprattutto una iper manipolazione ieri ho pubblicato anche uno short su youtube non l'operazione ma il diciamo il mini video dove in pratica indicavo anche come è stata creata questa cosa visto che bitcoin è una cripto sottile visto che può effettivamente essere manipolata da questo punto di vista ed è palese insomma questa è una manipolazione vedete anche questo tipo di fase di bassista su un grafico a 90 minuti ve lo mostro sul grafico invece a 15 minuti che è ancora più incredibile quello che è avvenuto perché si vede ancora meglio ragazzi perché queste sono candele di 15 minuti quindi il tutto è avvenuto con 15 30 45 e poi altri 30 quindi un'oretta circa ragazzi per fargli fare questa fase di bassista ma il grosso che ha innescato la fase di manipolazione al ribasso sono state due candele 1 e 2 poi il resto diciamo viene da sé perché in pratica c'è una sorta di atteggiamento riflessivo del mercato quali sono le news eventuali che hanno scatenato questa cosa in pratica ragazzi semplicemente questa quella di mongox forse un po forse il fatto che binance si è tirato fuori dall'accordo con voyager mongox che insomma indica diciamo che c'era una possibilità che il governo americano e mongox iniziassero a scaricare ancora una volta dei loro bitcoin che vengono controllati insomma quelli del governo americano degli stati uniti collegati al pallimento dell'exchange mongox si scatena il panico palesemente una manipolazione perché ragazzi queste cose le abbiamo già viste mille volte proprio durante il bull run o le fasi rialziste servono appunto a scatenare il panico essendo bitcoin una criptovaluta sottile ancora una capitalizzazione troppo piccola non piccolissima ma troppo piccola per gestire queste cose soprattutto i veri bitcoin ragazzi non sono negli exchange voi ricordatevi che non solo la capitalizzazione bitcoin 300 miliardi circa insomma qualcosa è un po' piccola ma non è solo questo è anche il fatto che molti di quei bitcoin non sono assolutamente presenti ho detto 300 miliardi ragazzi a 600 miliardi scusate non sono presenti all'interno della degli exchange quindi gli exchange sono pochi quindi quando si vuole manipolare insomma il prezzo basta un order book sottile si va a fare una cosa del genere e via con il liscio ragazzi allora cosa è cambiato in pratica niente anche se sembra strano a dirsi vi faccio vedere questo grafico che non è neanche un grafico daily ragazzi è un grafico a 90 minuti io lo uso per i cicli in periodi quello che abbiamo visto nel mio ultimo video che vi avevo mostrato guardate cosa succede se io vi metto le close in pratica scompare totalmente l'up e il down dovuto a questa shadow ribassista e il mercato si è riposizionato tra le due medie mobili ed è ritornato a salire seguendo la media mobile lunga tutto in pratica in linea con la struttura del rialzo che era non così eccessivo come era avvenuto all'inizio infatti era una fase di eccesso di rialzo ma era seguiva questo iter no questo trend che vedete indicato dalla media mobile arancione quella giallognola in pratica non è successo niente ragazzi allora questo vi fa capire anche come in effetti il mercato a volte esagera come queste siano manipolazioni che ovviamente se siete trader di lungo periodo non vi devono assolutamente interessare se siete invece trader come me magari intraday quel giorno lì ragazzi non vi nascondo che io qui un'operazione cina me la sono tirata allora intanto con l'operazione settimanale che vi avevo indicato lunedì sono stati raggiunti i target andatevi a vedere il video che ho pubblicato proprio il mercoledì giorno di questo patatrack dove indicavo che l'area di raggiungimento dei target era sopra i 29.006 sui 29.006 sono stati in effetti toccati quindi poi in academy abbiamo chiuso metà posizione a 29.006 come era il target e metà all'inversione intorno ai 29.100 perché poi abbiamo un bot lì che gestisce queste cose almeno io lo seguo non tutti lo seguono in academy non si copie ragazzi eh si fa solo quello che io indico quello che faccio poi ovviamente era interessante quindi abbiamo gestito questa posizione cosa sto facendo ora cosa è cambiato da questo punto di vista e poi vi faccio vedere in ultima analisi questo che è un grafico strafigo non lo vediamo da tanto tempo il grafico di bitcoin sul cme ma è un ci dà secondo me un'informazione molto molto rilevante allora analisi intanto di brevissimo periodo prima di analizzare poi la questione ciclica invece di bitcoin con l'update da un punto di vista di news ragazzi non è cambiato assolutamente niente se dovessi dirvi una cosa la news principale è che i mercati hanno visto quelli in diciamo totali quindi in mondiali non solo cripto è avvenuta ieri me la mostro eccola qui ragazzi la news più importante è quella relativa al pil il pil è non crollato perché non si può dire ancora positiva ma è crollato rispetto al previsto cioè si è dimezzato il tasso di crescita del pil del primo trimestre negli states rispetto alle attese ragazzi quindi sono cifre enormi e la conseguenza di questa cosa qui è stata un'impennata dei mercati soprattutto su nasdaq che ovviamente ha riprovato a breccare il suo massimo come vi avevo detto in quel video ragazzi cioè è iniziato una nuova struttura ciclica sul nasdaq un ciclo mensile probabilmente da questo minimo questa volta sembra vero diciamo così però ancora dobbiamo avere la vera conferma cioè il superamento dei 1300 13.000 scusate 400 punti quindi questa cosa qui però è stata innescata dai dati del pil ragazzi più 267 ne parliamo tra poco va bene allora facciamo un briefing intatto sulla questione di breve periodo di bitcoin poi vi riporto su nasdaq e poi il graficone di bitcoin strafigo che vi volevo far vedere oggi che è quello del cme allora analisi di breve periodo per quanto riguarda questa struttura ragazzi io sto seguendo una fase ciclica di inizio settimanale da qui quindi in pratica non mi aspettavo intanto nel giorno di mercoledì subito il raggiungimento dei miei target i target sono stati raggiunti quindi l'operazione di trading è stata chiusa il trading su questo ciclo settimanale al momento teoricamente è chiuso anche se io personalmente sto pensando anche di riprovare un'operazione di long proprio in questa fase l'ho indicata questa mattina in academy è un'operazione che è fuori dalle mie strategie standard quindi non la uso solitamente quindi sarà un'operazione di poco conto è fatta solo e unicamente per divertirmi un po' vi dico francamente se dovesse invertire questa fase di alzist in versione di alzista io uso un time frame a 15 minuti per verificare queste cose rientro long rientro long perché ho ancora idea che il mercato possa tentare l'arrivo a questa in questa zona di massimo e magari breccarlo un pochetto è ovvio ragazzi che se qualora questa struttura ciclica settimanale diventasse completamente ribassista con un crash improvviso come quello che abbiamo visto prima le cose cambiano radicalmente e questo massimo inizia ad essere ad avere una probabilità molto alta di essere il massimo del ciclo annuale di bitcoin almeno per questo semestrale e poi si vede nella seconda parte dell'anno cioè dopo giugno luglio ma la questione è molto poi delicata anche perché i massimi in termini di target sono stati raggiunti alla fine erano i 28 siamo arrivati a 31 quindi insomma ci sta ragazzi non è che non ci sta per l'anno 2023 i giochi sono fatti ve lo sto dicendo da qualche settimana ormai però nulla vieta al mercato di insistere no su una fase di trend soprattutto in vista proprio di questo dato che vi ho fatto vedere cioè il pil che è crollato cosa indica un pil che è crollato indica in sostanza ragazzi che la federal reserve potrebbe fermarsi con la questione del rialzo dei tassi secondo me l'ultimo continua a farlo regolarmente quindi non credo che cambierà infatti anche il grafico ragazzi fra 5 giorni del ponk indica comunque un rialzo dei tassi 025 molto probabile però magari la questione si ferma lì perché perché il pil ragazzi sta rallentando questo significa che l'inflazione rallenterà in maniera considerevole e sembra proprio che la federal reserve sia riuscita al momento a creare il famoso soft landing cioè sta tendenzialmente riducendo il pil facendolo andare vicino alla 0 leggermente magari in contrazione senza creare disagi quindi tra un po' teoricamente se questa cosa funziona dovremmo vedere aumentare anche la disoccupazione riportando la tasso naturale l'inflazione si fermerà per una questione contingente dopodiché il lavoro della fed sarà quello di far restare lì mi sono sbalatitati ma non ci servono più sarà quello di far restare lì in pratica il mercato quindi non far rischizzare i prezzi alle stelle e non far crashare il mercato in recessione questo significa che i rialzi dei tassi in pratica non ne vediamo più i mercati hanno reagito positivi perché se si riesce a fare una cosa del genere è molto meglio del previsto questo è quindi ragazzi il gioco praticamente è stato dato da quel dato lì gioco di parole allora Nasdaq indica una più 2,67 proprio grazie alla questione del pil si ripositiona verso i massimi solo un breakout di questo livello 13.500 punti 13.800 direi io che è meglio punti indica che qua su novembre e ottobre è iniziato un nuovo ciclo annuale quindi poi si segue anche l'ottica del nuovo ciclo annuale anche se secondo me ragazzi ormai è dato per scontato che Nasdaq ha iniziato il ciclo annuale a ottobre un po' come bitcoin quello di novembre per una questione di tempo più che altro quindi questa struttura io la faccio ricadere su una nuova fase ciclica però poi la conferma ufficiale arriva chiaramente al superamento dei prezzi che lì è inoppugnabile è una costa legata proprio ai prezzi detto questo andiamo a vedere la questione invece dei cicli di bitcoin per quanto riguarda questa struttura del ciclo mensile guardate come la candela della iper volatilità del 26 su time frame daily praticamente scompare non si vede se io vi metto la linea di chiusura, la close, non esiste praticamente nessuna volatilità guardate come il mercato nasconde le tracce ho un modulo del corso proprio dedicato a questo dove indico in maniera chiara che molto spesso per vedere meglio i mercati è bene utilizzare la chiusura e non il lasciato questo è un dato di fatto insomma lo uso anche come tecnica di smoothing io lo chiamo così allora guardate dove è finito bitcoin si è adagiato a 29.500 in questa zona ed è rimasto al di sotto di questa fascia perché? perché da qui in poi deve andare poi a tentare nuovi massimi e un po' strano che non li faccia cioè sostanzialmente il mercato qui sta facendo una figura attualmente di possibile inversione ribassista perciò è indeciso se la figura la conferma e inizia a scendere la questione si complica moltissimo ragazzi come vi dicevo se fa appunto il settimanale ribassista ma se non lo fa in pratica qui poi deve decidere di fare cosa? di breccare e fare nuovi massimi perciò questo punto è un punto di riflessione cioè in questo punto il mercato sta riflettendo se dice vado a fare nuovi massimi sì o no perché non è qui che rifletterà se fare nuovi massimi ma è qui che lo sta facendo ragazzi perché se arriva in questa zona a 31.000, 30.500 diciamo così poi dice vabbè ci sono, si fanno nuovi massimi si va in effetto riflessivo è difficile proprio un doppio massimo a corna come si dice in questa zona molto difficile perché qui il mercato poi ha la spinta no? per dire vabbè faccio nuovi massimi poi magari li tocca fa un falso breakout però nuovi massimi li ha fatti no? e quindi poi magari chiude così questo lo può fare però la fase decisionale di bitcoin è questo momento qui quindi è una questione di giorni ragazzi dopodiché il mercato dovrà prendere la sua strada qui è normale che rifletta quindi si fermi in una mini barra di congestione però guardate anche la struttura della fase ciclica il superamento delle due medie riporta il mercato con una forza importante e soprattutto queste due medie adesso diventano una zona di tentato supporto poi in questa fase il mercato può chiudersi in barra di congestione ovviamente ma a noi importa poco perché non ci importa diciamo se sta fermo no? ci importa se crasha quindi per individuare se questa zona diventa negativa questo è un punto di pericolo quindi questo punto di pericolo deve essere breccato al rialzo tra poco oppure deve sostenersi in una barra di congestione ma se va al down ragazzi soprattutto se il mercato scende di nuovo sotto la media mobile blu che è una media semplice a 11 periodi ragazzi quindi la potete disegnare anche voi su TradingView diventa pericolosissimo quindi fate molta attenzione a questa fase va bene detto questo vi porto al grafico invece di oggi che volevo farvi vedere quello sul CME perché è una centratura ciclica per gli amanti l'analisi ciclica è diversa su questo grafico ed è più pulita questo è il grafico con i gap che vi avevo fatto vedere cioè il grafico che ha fatto un gap che ha chiuso qui e ha un altro gap da chiudere a 35.000 dollari ragazzi allora ve lo disegno qui ho fatto uno short anche su questo cioè non sempre il video ragazzi non l'operazione allora ho fatto questo tipo di contenuto simpatico allora guardate qui una struttura ciclica interessantissima intanto questa fase inizia prima di minimo inizia prima sulla CME ragazzi rispetto al 21 novembre del mercato spot perché il minimo in questione il 21 novembre bitcoin lo ha fatto da solo in pratica quando il CME era chiuso questo è il discorso quindi qui il minimo è avvenuto più in basso il 9 di novembre con un minimo a 14.9 mentre il 9 di novembre lo spot aveva raggiunto un minimo di 15.6 questi prezzi bit stamp ma più o meno gli altri sono così ragazzi mentre qui ha fatto 15.4 sul CME il minimo è stato fatto più profondo il 9 di novembre quindi in sostanza teoricamente il ciclo annuale è iniziato prima ora questa cosa è un grafico particolare io non lo uso per i miei trading però lo guardo spesso ragazzi perché a volte chiarisce un po' la centratura è un grafico che teoricamente è meno pesante rispetto a quello spot perché bitcoin in realtà è quotato sugli exchange non sui future dei mercati classici però molti istituzionali seguono questo grafico quindi ogni tanto dargli un'occhiata non guasta perché è un po' più pulito rispetto al grafico spot che ha i sabati e le domeniche con pochi volumi con manipolazioni possibili e quant'altro se vedete qui per esempio la questione della manipolazione anche della giornata del 26 è meno pronunciata rispetto a quella standard all'ora dello spot allora qui la questione ciclica ci dice che in teoria abbiamo fatto un trimestrale da 82 barre perché dico 82 barre e non giorni ragazzi perché in questo caso contano le barre in quanto il future cme è chiuso i sabati e le domeniche quindi qui ci sono aggiunti sabati e domeniche e altri festivi che in realtà non ci sono quindi come esempio la pasco qui dovrebbe essere aggiunta allora qui no però se non erro aggiunto il Natale scusate la pasco è aggiunta qui allora quelle giornate che il mercato in sostanza era stato chiuso quello ufficiale e qui contano le barre quindi bisogna ragionare in termini di barre 82 è un trimestrale perfetto ma poi la cosa simpatica è vedere questo grafico così congegnato una visione diversa ragazzi e quindi questa per ciclisti chi ama questa analisi ci porta un minimo quello del 24 aprile che in teoria è una close di un mensile a 31 giorni molto semplice 31 barre 45 giorni molto banale oserei dire quindi in teoria su questo grafico il 24 di aprile quindi lunedì scorso è iniziato un nuovo mensile quindi siamo nel primo settimanale di un nuovo mensile che ha tutta la possibilità di fare appunto il famoso massimo e poi chiudere i giochi per il semestrale di bitcoin allora passata questa settimana è visto se il mercato riesce a fare questi nuovi massimi se ce la fa o meno poi si passa in una fase ragazzi che sarà quella dell'analisi della close del ciclo semestrale di bitcoin e anche di altre crypto tra le quali quella più importante da visualizzare sarà Matic per la chiusura di questo ciclo annuale di Matic che è l'unica che ha un ciclo annuale pulito iniziato a giugno e sarà il nostro faro anche per capire cosa faranno i mercati perché anche Ethereum subirà probabilmente le stesse sorti di Matic allora tutto si gioca in questa settimana che viene entro maggio i primi di maggio e poi teoria del minimo di maggio verrà rispettata o meno sapete che io non la condivido in pieno quella teoria l'ho fatta perché molti di voi mi avete chiesto quella view però maggio giugno dei mesi importantissimi forse i veri mesi di switch di questo trend dal rialzo di Bitcoin verso una zona più con un ribasso più pronunciato o più lungo oserei dire io meglio che più pronunciato lo scopriremo solo vivendo come diceva la splendida canzone ma in questo momento a noi interessa più questa fase allora Bitcoin deve breccare questa zona qui se il grafico sul CME ha ragione e il mensile è iniziato il 24 di aprile può farlo con grande tranquillità detto questo buon weekend a tutti ragazzi noi ci rivediamo lunedì ciao